Vi scrivo, che altro più? Che cosa posso dire ancora? Lo so, ora sta alla vostra volontà punirmi col disprezzo. Ma voi, se troverete almeno un'obiciola di pietà per il mio triste destino, non mi abbandoneremmette. Da prima avrei voluto facciare, credetemi, non avreste mai conosciuto la mia vergogna. Se io avessi avuto la speranza di vedervi nel nostro villaggio, pura ramente, pura una sola volta alla settimana, di udir soltanto la vostra conversazione, di dirvi una parola almeno, e poi pensare, pensare sempre ad una cosa soltanto, Giorno e notte, fino al nuovo incontro. Pисьmo Tатьяны Конегин из романа Евгений Анигин. Giorno e notte, fino al nuovo incontro.